Allora, voglio dire, poi come vedi le posizioni sono diverse perché Don Gino Rigoldi è quella chiesa aperta, quella chiesa attenta alla società ed è una chiesa che mi piace, ecco, evidentemente anche la chiesa ha diverse anime, però vorrei portare al paradosso, all'estremo, quello che ho giocato sui giornali, cioè un bambino ha bisogno di due genitori, perfetto, allora domanda, se muore uno dei due genitori che facciamo? Dio una casa famiglia, sono populista, sono qualunquista, scusate, perché io poi sono semplicemente una persona che vorrebbe capire, ecco. Ci lasciamo con questa riflessione. Sì, credo che Marcello Micci tra le tante cose abbia anche una missione adesso, è interessante, non escluso che lo faccia vedere quanto ha dallo Stato una casa famiglia che tiene in alloggio un bambino, ovviamente se poi non ce l'ha più quel finanziamento lo perde. Rilanciamo quest'input e vediamo che succede. Vi ringrazio. Grazie a te Tiberio. Ciao, buona giornata. Ciao. Il programma è stato offerto da Enterprise Solution.